Amici di informazione e comunicazione, eccoci in questo nostro spazio di riflessione quotidiana con il mondo social. Vi saluto dalla postazione di informazione e comunicazione, dalle postazioni associate Corigliano Calabro.it, Rossano Calabro.it, Sibarinette Radio Calabria. Allora oggi ne avevamo già parlato in un precedente appuntamento però l'evolversi delle dinamiche nazionali un po' confermano quello che è lo spirito di quelle che sono delle riflessioni rispetto alle necessità che richiedono una certa impellezza. Allora non più di qualche tempo fa ebbi modo di dire che l'attuale sistema elettorale che presenta per due terzi un sistema proporzionale determina instabilità di governo e dicevo anche che per la tipologia tendenziale dell'italiano medio, confrontandomi con quelle che sono i reati più riscontrati nell'ultimo ventennio della nostra Repubblica, vediamo che appare la corruzione, il malcostume e quindi abbiamo un'attitudine a delinquere. Chiarito questo, dicevo anche che in un sistema del genere e ammettevo senza alcuna difficoltà la mia simpatia per un sistema proporzionale puro, tanto per intenderci, ma un sistema proporzionale puro può essere calato in una società in cui si respira l'aria del senso civico, dell'educazione civica. Ma in una realtà in cui al primo posto, tra i primi posti abbiamo la corruzione, noi un sistema elettorale con quote proporzionali non possiamo permettercelo, perché il proporzionale alimenta i livelli di contrattazione e di mediazione. E tra soggetti o in una realtà in cui è prevalente questa indole di agire per interessi personali, per la gestione di un potere, è evidente che è un sistema che non può essere modellato in una società contaminata. E allora parlavo di un modello praticabile che può essere sicuramente quello, ad esempio, della elezione diretta dei sindaci, che comunque conserva una minima parte, diciamo, di quota proporzionale, garantisce una presenza delle minoranze, ma scatta un premio di maggioranza e si garantisce anche una stabilità di governo, che è il nocciolo della questione. Tant'è che noi mediamente ogni due anni siamo costretti a recarci alle urne o comunque giù di lì siamo in prossimità per. Ma dicevo, un po' tutti i leader nazionali vogliono l'instabilità di governo. Con un sistema proporzionale ciascun leader nazionale ha un potere contrattuale, ha una carta da giocarsi per elevare il costo della contrattazione. Anche con l'uno, due, tre per cento, addirittura in Italia si diventa determinati e si fanno cadere persino dei governi. Ma vi sembra democratico un sistema del genere. Oggi c'è l'accozzaglia. Mettiamoli alla prova. Oggi abbiamo un governo delle larghe intese, direi. O no, c'è, a parte Fratelli d'Italia che si asterrà su alcuni punti, abbiamo una larga maggioranza. Allora, se questo governo è il capo dello Stato, poiché ha voluto questo governo, personalmente rimarrò in attesa di capire quali saranno i pro... Io solitamente con i governi tecnici sono molto prudente perché di tecnico ci vedo ben poco. Per me un vero tecnico è colui il quale riesce a trovare una soluzione dei problemi senza dover ricorrere ai tagli alla spesa pubblica. Perché è chiaro che se noi tamponiamo tagliando non ci vuole un gran tecnico uscito dalla Bocconi per tagliare. Non mi sia consentito, lo dico con il massimo rispetto nei confronti di chissà, di chi studia e di chi magari ha lavorato molto nel mondo delle finanze e della spesa pubblica. Su questo non c'è dubbio. Ma contano i fatti, quelli concreti, non i titoli. E allora mi chiedo e vi chiedo se oggi non sia opportuno dover andare nella direzione. Perché è inutile andare alle urne e riproporci con lo stesso sistema elettorale. Perché nessuno avrà mai quei numeri tali da poter garantire una stabilità di governo. E basta, come è successo anche nelle ultime ore, negli ultimi mesi, basta una percentuale da condominio per determinare le sorti di un governo. non può essere così. Allora noi, per quanto mi riguarda, dico che un governo responsabile dovrebbe anteporre in agenda come primo punto la riforma del sistema elettorale e guardare allo stato attuale ad un sistema maggioritario che garantisca la stabilità di governo. Considerato che ad oggi, ogni due anni, siamo di fronte ad una crisi. Parlano i fatti, parla la storia. Il passato e il presente deve servirci almeno a saper disegnare il futuro. Se non siamo capaci neanche in questo, vuol dire che dovremmo forse dimetterci come classe politica dalla società civile. Grazie, alla prossima.